La vincitrice della prima tappa di Miss Mondo Italia per l'Abruzzo è Eleonora Dianetta! Su, via! Su, su! Prego, facciamo inspirare loro, comunque vengono quando si spiegheranno alla fine. E un applauso dolorosissimo anche per tutte e tre le ragazze, grazie, dobbiamo ringraziare sempre il presidente della giuria, Tania Bombaci, Spossaline per salutarci, FM Division dov'è? Fabrizio Picalfieri, giuria sponsor tecnici M Costruzioni, Alberico D'Alessandro, e stampa Maria Cattini dal Tavoloro.it, TV1 e anche weekend intorni, Paolo Molinari! Molinaro! Ringrazio a tutti i ragazzi che sono andati già via, i ragazzi e le ragazze che sono dietro le quinte, io vi ringrazio infinitamente e volevamo fare un applauso dolorosissimo agli organizzatori, dove sono gli organizzatori? Dove sono? Dove sono? Si nascondono, dove sono? Dove sono? Dove sono? Un carosissimo applauso a Marcella e a Francesca! E un speciale ringraziamento a questo ristorante bellissimo, un ringraziamento particolare, spero di mangiare, perché voi state mangiando, e mi auguro che passiate delle vacanze di Natale, insomma, alla grande, sperando con tutta la crisi che c'è, sperando che comunque ci riprendiamo, che Dio ce la mandi buona. Io vi ringrazio per essere stati qui, i ragazzi che hanno ballato, Paolo, la nostra Miss Mondo, le ragazze, vi augurano direttamente gli auguri di Buon Natale, direttamente da voi, e poi finiamo e vi ringraziamo. Vi ringraziamo Roberto Ruggero che ci ha venuto per questa sera, meravigliosa vita! Buon Natale! Di Buon Natale! Buon Natale! Auguri! Buon Natale! Buon Natale a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Buon Natale! Buon Natale a tutti! Grazie! E da Roberto alla prossima! Grazie!